L'idea era quella di andare a CIBUS, la fiera dell'agroalimentare in questi giorni a Parma, per sponsorizzare l'azienda alessandrina ed invogliare le tante imprese presenti ad investire in quello che per tanti anni è stato considerato un vero e proprio gioiello della produzione alimentare del territorio. Ma anche in questo caso sindacati e lavoratori della Centrale del Latte di Alessandria ed Asti, partiti questa mattina di buon'ora con le migliori intenzioni, sono ritornati con poche speranze. Le parole di Raffaele Benedetto della Flai CGL non lasciano dubbi. Abbiamo riscontrato che nessuno aveva mai sentito parlare della Centrale del Latte di Alessandria ed Asti, che fra l'altro ha sempre servito gran parte del nord-ovest. Tanti alla richiesta di un aiuto ci hanno risposto di no. Il fatturato da 25 milioni di euro all'anno con 15 milioni di latte fresco prodotto non hanno evidentemente invogliato nessuno. Complice forse anche un mercato che è molto cambiato negli ultimi anni e che guarda con ormai grande interesse allo sviluppo di tutte quelle bevande proteiche per intolleranti. Lavoratori e lavoratrici vogliono sapere ora se lunedì sarà veramente la data della presentazione dei libri in tribunale della società con conseguente dichiarazione di fallimento, oppure se ci può essere ancora qualche possibilità. Intanto domenica mattina i lavoratori saranno con un loro presidio alla manifestazione della stra Alessandria con le bandiere e con il logo della centrale del latte di Alessandria ed Asti. Il motto, anche in questo caso, come nel film di Fellini, Boccaccio 70, potrebbe essere Bevete più latte, il latte fa bene.